Giovedì 24 marzo 2022 vi parlo dall'ospedale Palagio di Firenze dove è in corso l'inaugurazione di una collezione straordinaria di opere, sono 99 realizzate dall'artista fiorentina Anna Cecchetti e donate al conosciutissimo nosocomio fiorentino, oggi rappresentato qua alla nostra postazione dal direttore Tommaso Grassi e accanto a lui ovviamente Anna Cecchetti, all'altro mio lato alla nostra postazione il professor Ugo Barlozzetti che è il presidente del gruppo Donatello storico sodalizio artistico fiorentino al quale appartiene da tanti anni Anna Cecchetti saranno loro ovviamente a presentarci questa straordinaria collezione di opere e poi concluderemo con Anna Cecchetti che ci racconterà anche come è nata la genesi di questa ricca straordinaria collezione di ritratti di intellettuali e non solo intellettuali fiorentini che da oggi chi verrà per consultazioni, per visite ma anche per vedere questa mostra a Palagi potrà ammirare. Lascio subito la parola a dottor Tommaso Grassi che credo inviterà anche i nostri telespettatori a venire a visitare questa straordinaria mostra. Grazie mille, buongiorno. Volevo innanzitutto ringraziare Anna Cecchetti per averci donato ulteriori opere all'interno di questo presidio ospedaliero di cui io ne faccio parte come direzione e ringrazio anche a nome dell'azienda sanitaria per questa gentile disponibilità delle opere di Anna. È un percorso che io ho vissuto solo recentemente ma ha radici da lungo tempo, comincia nel 2008 con l'inizio delle donazioni all'interno del presidio ospedaliero che hanno arricchito tutta la struttura di una nuova luce, una nuova anima perché è importante che i luoghi di cura non siano solo luoghi di cura in cui comunque afferiscono persone che per vari motivi purtroppo non sempre vivono esperienze positive e quindi è il credo di questa direzione, ma in primis, di migliorare tutto l'aspetto ambientale che è presente all'interno del presidio ospedaliero. E quindi la presenza di queste opere di Anna, numerosissime, siamo ad oggi a 99 opere in tutto il presidio ospedaliero con un percorso di crescita che ha visto sia opere pittoriche ma anche opere scultorie soprattutto negli ultimi anni che sono andate a impreziosire ambienti sanitari di vari setting specialistici siamo giunti a un buon punto di arrivo e spero di ulteriore partenza per ulteriori opere che Anna potrà donare al presidio per ulteriormente migliorare l'esperienza di vita di tutti i pazienti, tutti coloro che ogni giorno popolano i nostri ambienti. Come dicevano giustamente chi mi ha preceduto è importante per chi vuole anche venire a visitare tutti gli ambienti di questo presidio ospedaliero che sono appunto ricchi di queste opere magari anche come esperienza di accompagnamento verso un paziente che deve effettuare una visita specialistica è possibile visionare con questa mostra permanente in vivo tutto l'anno, mattina, pomeriggio, lunedì a venerdì queste opere all'interno del presidio. Io ringrazio ancora una volta Anna Cecchetti per la sua immensa generosità e sono veramente contento di averla conosciuta in questa veste di direzione sanitaria e anche insomma come vita, come amica perché è una persona molto preziosa in tutti i sensi. Grazie mille. A questo punto io devo solo ringraziare la direzione perché avete ospitato tutto questo mio lavoro quindi grazie infinite e buona vita a tutti. Chi meglio del professor Ugo Barlozzetti, critico e storico dell'arte, presidente del gruppo Donatello profondo conoscitore della storia, della cultura e delle arti visive a Firenze almeno negli ultimi 50 anni ma insomma sono stato un po' stretto perché gli anni avanzano e noi siamo un po' avanti con gli anni. Quindi molti di questi personaggi direi quasi tutti li hai conosciuti personalmente e quindi sei la persona più indicata per sottolineare il valore artistico ma anche memorialistico di questa mostra perché ricorderà a tante persone delle generazioni future personaggi che hanno scritto la storia culturale della nostra città e non solo della nostra città perché molti sono personaggi di statura nazionale e internazionale. Grazie straordinariamente l'occasione di poter sottolineare come in questo caso ci sia stato questo incontro tra un'istituzione e un'artista importante come Anna che ha sempre ribadito il suo rapporto con la creatività, con la vita. Io credo che questo complesso con le sue 99 opere che illustrano una parte della sua grande produzione siano un esempio perché Firenze ha bisogno in questo momento di recuperare la propria memoria. La propria memoria soprattutto degli anni in cui sono stati protagonisti, tra i protagonisti più significativi della vita di questa città, proprio le personalità. Alcune non ci sono più, altre sono vive ed operanti che Anna ha restituito con una sua capacità straordinaria a quello che può essere la vita oltre il tempo della vita biologica e quindi in questo senso mi ha fatto anche una profonda emozione rivedere personalità che ho conosciuto recuperate proprio nell'elemento più significativo del loro volto. Ma al di là di questo e di questa galleria straordinaria che anche con le dimensioni che Anna sa affrontare, c'è anche tutto un altro aspetto che vorrei sottolineare particolarmente, vale a dire il rapporto che si stabilisce con una tradizione importante. Ne parlavo prima di Santa Maria della Scala a Siena con la presenza delle opere, questa cultura profondamente legata alla nostra civiltà, alla civiltà che nasce dai comuni, dalla civiltà che nasce nel rapporto con quello che noi continuiamo a chiamare questa grande rivoluzione culturale che è stato il rinascimento, la centralità dell'umano, la centralità che si riscopre anche attraverso l'importanza del corpo umano e in questo senso l'inno alla vita, qui ce ne abbiamo un pannello importante, questo inno alla vita con questo rapporto con il mare, quindi con il rapporto con il mondo del Mediterraneo e attraverso il vissuto diretto di Anna in Sardegna, con queste figure sdutte, elegantissime, che giocano anche su un rapporto tra Matisse e il mondo antico, con questa sintesi formale, con questa ricerca anche cromatica di straordinaria originalità nel gusto e nel senso anche delle sue sgocciolature, che ben lontane sono dal draping, ma che sono studiate per accentuare il rapporto con un materico che poi si riorganizza e si definisce nella realtà dell'immagine. È un'immagine che offre anche soluzioni dal punto di vista del rapporto, il significato dell'immagine, il significato anche che deve assumere un racconto, il racconto dell'inno alla vita e si articola questo enorme lavoro con dei monumenti, due ho visto prima dalle immagini restituite attraverso la fotografia, alcune di queste cose, il cipresso della vita e anche quella fontana, quel fiore fontana che è anche una testimonianza di altre attività di Anna dal punto di vista della scultura, una e della micro scultura e della capacità inventiva che Anna fa quasi sul piano della stessa oreficeria, un'oreficeria fatta con l'ideazione dell'oggetto che diventa prezioso attraverso il lavoro e quindi il marmo si trasforma in idee che provocano ulteriori riflessioni, sono delle soglie all'immaginario, alla poesia perché tutto questo aspetto che Anna affronta è profondamente legato alla sua dimensione creativa, alla sua capacità di trasformare l'immagine in elementi che portino alla riflessione, non c'è bisogno dell'effimero, anzi direi che questo è proprio un aspetto che ci induce a fare una riflessione profonda sulla cultura fiorentina di questi anni, del ruolo che anche come gruppo Donatello in qualche cosa vogliamo recuperare, vale a dire ci interessa molto l'arte come ricerca e sperimentazione, ma non accettiamo una certa acquiescenza nei confronti di un mondo che troppe volte gioca sul terrorismo ideologico, sul blef, sul gioco fondamentale del mercato. In questo senso Anna invece ci riporta al vigore, alla forza dell'immagine, ci riporta al rapporto con il pubblico, con i fruitori perché qui veramente l'opera non solo è monumento ma è anche elemento importante di riflessione per giocare su luoghi che sono legati proprio a un inno alla vita, per la salute, per superare l'elemento che delle volte nei corridoi degli ospedali ritroviamo. Questo è un atteggiamento che a Firenze, anche in qualche altro ospedale, lo possiamo vedere, a Torregalli, ma non con questa ampiezza, con questa articolazione, con questa straordinaria anche capacità di giocare sulla scultura, su oggetti che creano l'integrazione diretta con la natura come sono quelli dei giardini che fanno parte di questo complesso. Quindi dico che questa scelta, questa donazione è un atto di enorme generosità e al tempo stesso l'accettazione è anche il segno di una grande sensibilità dal punto di vista civile e anche sociale, oltre che culturale. Vorrei concludere con questa riflessione che si apre perché dobbiamo recuperare la dimensione di educare all'arte, bisogna che Firenze recuperi questo. Vorrei ricordare anche l'importanza di un'altra realtà ospedaliere significativa che è il complesso di Santa Maria Nuova, proprio nel complesso di Via Bufalini, quella zona dove la testimonianza tra l'antico e la realtà contemporanea sono significative, ma comunque i palaci, chiamiamolo ancora così, che dalle sue finestre ci fa godere la visione di Firenze, ritrova con questo complesso, possiamo dire monumentale, già di 99 opere, una sua originalità e un ulteriore elemento per cercare di sprovincializzare Firenze e dai lunaparchizzatori. Grazie. 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 Grazie.